Bentornati! La volta scorsa abbiamo parlato di Eddie Van Halen e di quanto la sua presenza sia stata veramente determinante per tutti i chitarristi che sono arrivati dopo di lui. Come ho detto la volta scorsa, nella storia del rock, della chitarra rock in particolare, c'è un pre-Van Halen e un post-Van Halen. A dimostrazione di quanto Van Halen sia stato influente, oggi parliamo di un altro chitarrista che benché avesse solo un anno meno di Van Halen, è stato da questi molto influenzato. Oggi parliamo di Randy Rhodes. Randall William Rhodes è stato uno dei più grossi talenti che la chitarra elettrica abbia avuto. È un grandissimo musicista, morto veramente troppo, troppo, troppo giovane. Randy nasce a Santa Monica, in California, da una famiglia di musicisti. Entrambi i genitori sono insegnanti di musica, un suo fratello anche musicista. Insomma, quindi come dire, nasce in un ambiente abbastanza favorevole alla musica. In particolare la mamma insegna musica, insegna pianoforte in una scuola vicino a casa loro e quindi Randy fin da bambino si appassiona allo studio della musica. Inizia subito con la chitarra, studia la chitarra folk, suona e studia tanto la chitarra classica anche se non arriverà mai a completare un percorso di studi. E anche se vedremo che però questo fatto di non aver terminato, come dire, un corso di studi poi sarà influente in una fase successiva della sua vita. Randy quindi cresce, studia la chitarra e diventa un insegnante di chitarra abbastanza noto dalle sue parti. Tanto è vero che alterna l'attività di insegnante a quella di musicista a tempo pieno. Quindi in particolare fonderà un gruppo che dopo un paio di denominazioni si chiamerà Quiet Riot che sono un gruppo che verso la metà degli anni 80, quando il buon Randy già non ci sarà più avrà un grosso successo commerciale internazionale e diventerà comunque una delle band di heavy metal più influenti degli anni 80, cioè una prima metà degli anni 80. Come tutti i gruppi all'inizio hanno ovviamente vita non facile hanno grossi problemi a cercare una casa discografica non riescono a trovarla, poi la trovano ma questa qua si tira indietro poi ne trovano un'altra ma questa prima di pubblicare il loro disco fallisce insomma quindi un inizio un po' travagliato per i Quiet Riot che poi alla fine riusciranno comunque a pubblicare due album con un'etichetta giapponese esclusivamente per il mercato giapponese tant'è vero che i primi due album dei Quiet Riot ancora oggi sono abbastanza difficili da reperire nel loro formato fisico proprio perché la distribuzione all'inizio era stata solo per il mercato giapponese. Randy quindi si appassiona alla musica classica e ancorché come detto non finisca mai un corso regolare di studi porta questi suoi studi, riferite a musica classica, nelle canzoni che scrive. Questo è un passaggio molto importante per la seguente ragione il rock sicuramente lo sapete deriva dal blues e come dire e deve al blues buona parte della sua struttura e buona parte delle sue scale, dei suoi accordi e così via poi ovviamente si è voluto verso altre strade che col blues non hanno niente a che fare ma insomma come dire la radice è quella. Ci sono stati dei gruppi che invece hanno inserito pezzi importanti di musica classica, barocca più spesso nella loro composizione mi vengono in mente i Getro Tali, di Purple già nel 1970 in tante canzoni che scrivono si sente proprio un'influenza molto forte di compositori come Bach o anche di compositori di un periodo un po' più successivo però insomma come dire questa cosa è sempre una parte il rock quindi deve principalmente la sua radice a blues e ogni tanto qualche gruppo ci mette dentro qualcosa che ricorda la musica classica o che è derivato dalla musica classica questa tendenza continua fino ai primissimi anni 80, 83, 84 quando l'avvento di Malmsteen di cui abbiamo già parlato nella puntata di Eddie Van Allen cambia completamente regola d'ingaggio e la musica classica soppianta il blues Randy Rhoads però questa come dire funzione importante della musica classica nel metal la fa prima di Malmsteen perché quando Malmsteen pubblica il suo primo disco Randy Rhoads è già morto allora la svolta nella vita di Randy Rhoads avviene nel settembre del 1979 Randy Rhoads non ha ancora compiuto 23 anni cosa succede in quell'anno? Ozzy Osbourne il frontman, leader, cantante dei Black Sabbath dopo oltre dieci anni con il gruppo che veramente ha fatto la storia del heavy metal lascia il gruppo all'inizio il progetto prevedeva la fondazione di un nuovo gruppo dopodiché Ozzy Osbourne preferirà invece dedicarsi alla carriera solistica e chiamare il suo gruppo col proprio nome quindi Ozzy Osbourne nel 1979 Ozzy fa delle audizioni per scegliere i musicisti per questo gruppo e le fa a Los Angeles e questo già se vogliamo indica quella che era la strada che Ozzy voleva intraprendere cioè non le fa in Inghilterra quindi non lo fa con musicisti inglesi ma va alla ricerca di musicisti americani e per questo le audizioni le fa a Los Angeles Randy Rhoads viene caldamente invitato a partecipare a queste audizioni e lui in realtà che è molto preso fra le lezioni di chitarra con i suoi allievi fra i concerti con i Quiet Riot e altri impegni musicali in realtà le fa un po' in malavoglia e arriva praticamente al provino stanco e non particolarmente motivato nonostante questo Ozzy Osbourne capisce immediatamente di trovarsi davanti un fuoriclassico c'è questa foto che è bellissima e credo insomma che valga più di mille parole e lo scrittura immediatamente comincia così per Randy Rhoads la vita di una rock star perché ovviamente un cantante del peso e dell'influenza del seguito che è Ozzy Osbourne in quegli anni, ma ce li ha ancora oggi, figuriamoci in quegli anni che non erano veramente gli anni più intensi della sua attività musicale in cui vendeva tantissimo, faceva una barca di concerti insomma, Randy Rhoads si trova catapultato da una piccola realtà delle lezioni date agli allievi di un gruppo musicale in cui ha fatto due dischi ma che insomma non è ancora decollato e che anzi attraversa tante difficoltà si trova catapultato nello star system che solo un grosso nome come Ozzy Osbourne potrebbe garantirgli vola quindi a Londra tra l'altro il primo viaggio a Londra di Randy Rhoads non è particolarmente fortunato perché viene rimandato indietro dalla dogana perché non ha i documenti necessari il permesso di lavoro e così via insomma quindi dopo un po' di vicissitudini finalmente ottiene i permessi che gli servono per poter lavorare in Gran Bretagna e si mette a registrare con Ozzy Osbourne il primo disco da solista di quest'ultimo cioè The Blizzard of Oz il disco viene registrato in sole tre settimane e la presenza di Randy Rhoads è subito fondamentale anche nel songwriting quindi Randy Rhoads non è semplicemente un chitarrista che suona nel gruppo di Ozzy Osbourne ma è un coautore di tutte le canzoni che ci sono sull'album l'album è molto bello l'album avrà un successo enorme negli anni venderà più di 10 milioni di copie e la presenza di Randy Rhoads è molto importante perché perché porta innanzitutto la musica di Ozzy Osbourne verso qualcosa di più americano che inglese ma come ho già detto il fatto stesso che Ozzy abbia voluto fare le audizioni a Los Angeles e non a Londra evidentemente quella era già come dire la direzione che Ozzy aveva deciso di intraprendere ma non solo perché porta in tutte queste canzoni l'influenza della musica classica di cui abbiamo parlato prima e soprattutto in brani come Mr. Crowley o Crazy Train che poi diventeranno veramente dei classici del repertorio di Ozzy quindi questa influenza si sente tantissimo la cosa buffa è che Randy Rhoads già non era convintissimo di andare al provino ma in più lui non è un grande fan né di Ozzy né di Black Sabbath e in questo se vogliamo c'è questa strana relazione fra Ozzy e lui cioè che per certi versi è il suo alter ego cioè i due si legano in maniera molto forte soprattutto Ozzy e Randy Rhoads lo vede hanno otto anni di differenza insomma vede in lui una specie di fratello minore insomma forse un qualcosa del genere insomma quindi si attacca molto al ragazzo ma veramente i due sono diversissimi cioè Ozzy non so se conoscete il soggetto di cui stiamo parlando ma insomma è uno che ha sempre fatto degli eccessi la sua vita Randy Rhoads no Randy Rhoads è un tra virgolette un bravo ragazzo che non si droga non fa l'eccesso d'alcol che fa Ozzy non ha i tatuaggi anzi Randy Rhoads e dei suoi amici insomma dice di non essere mai stato un gran fan né di Ozzy né dei Black Sabbath e poi dice poi tutti pieni di tatuaggi ma non so se sapete Ozzy ha tatuato qui sulle nocche della mano il suo nome Ozzyzy e Randy Rhoads diceva ma chi è il tipo che si tatua il proprio nome addosso cioè gli sembrava una cosa decisamente un po' strana in più c'è una questione anche caratteriale insomma Ozzy è molto più eclettico molto più frontman sicuramente e Randy Rhoads è più introverso e più chiuso ma capiamoci introverso e chiuso come può essere introverso e chiuso uno che di lavoro suona la chitarra in una band di heavy metal ovviamente insomma quindi prendete i termini con insomma con le dovute pinze comincia un tour mondiale di oltre 120 date che dura 13 mesi in cui veramente Ozzy e la sua band fanno il giro del mondo sono dappertutto e subito questo ragazzo viene notato tanto è vero che nel 1981 Randy Rhoads vincerà il premio come miglior chitarrista emergente del mondo dato da una grossa e importante rivista di musica rock già però durante il tour ci sono una serie di problemi forse Randy Rhoads si rende conto che forse quello non è veramente l'ambiente che fa per lui non è abituato a quegli eccessi non è abituato a quello sia di vita non è abituato a certe abitudini di Ozzy vi lascio immaginare quali possono essere ma soprattutto comincia a farsi strada nella sua mente l'idea di riprendere gli studi e di diplomarsi in chitarra ovviamente questa cosa è assolutamente incompatibile con il lavoro con Ozzy evidentemente perché lì significa registrare un disco e poi stare un anno in giro per il mondo in tour quindi o fai una cosa o fai l'altra non è pensabile che le due cose possono in qualche maniera conciliarsi però è chiaro insomma che il lavoro con Ozzy gli porta ovviamente dei guadagni consistenti le royalties per i dischi di cui lui è coautore gli portano guadagni consistenti e resta di fatto che è sicuramente come dire un'occasione professionale che a non tanti ragazzi di 22 non ancora 23 anni capita nella vita e soprattutto poi non tutti hanno le qualità necessarie per superarle insomma però sta di fatto che Rhodes è sempre molto combattuto tra il desiderio di rimettersi a studiare riscriversi all'università della California e diplomarsi e continuare la vita comunque di una rock star in giro per il mondo interviste, concerti, viaggi, aerei eccetera eccetera finisce quindi questo lungo lunghissimo tour mondiale e la band ritorna in studio il risultato è il secondo disco solista di Ozzy Osbourne che è Diary of a Madman che è un altro disco molto bello più pensato, più strutturato del primo che invece era più immediato questo è più sofferto è più lavorato anche dal punto di vista degli arrangiamenti è più complesso resterà comunque un altro album di grande successo che negli anni venderà più di 10 milioni di copie finito il disco come la copione deve ricominciare un altro lungo tour mondiale tutto prosegue in maniera abbastanza regolare fino al 18 marzo del 1982 la band ha fatto un concerto a Knoxville in Tennessee e ha un concerto il giorno dopo a Orlando in Florida allora i lunghi spostamenti generalmente venivano fatti allora come oggi in aereo ma quelli brevi e per brevi si intende qualche centinaia di chilometri quelli che avrebbero potuto iniziare partendo subito dopo il concerto e dormendo la notte nei tour bus vengono fatti appunto col bus per cui partono fanno tutta la notte in viaggio dormendo e prima di arrivare a Orlando l'autista del bus si ferma a casa sua che per pura coincidenza è praticamente sulla strada si ferma per fare una pausa sono circa alle 8 del mattino l'autista del bus ha anche un brevetto da pilota ancorché è scaduto ancorché c'è un certificato medico che praticamente non gli avrebbe consentito di iniziare a volare ma detto questo decide comunque è a casa sua un hangar ha un suo aereo piccolo aereo da turismo decide comunque di fare un giro e di portare a fare un giro anche due membri della band mentre il resto della band sta ancora dormendo nel bus fanno un primo giro e tutto va bene e atterrano decidono di fare un secondo giro e stavolta salgono sull'aereo Randy Rhodes e la parrucchiera che seguiva naturalmente il gruppo durante tutta la tournée fanno il giro e da quello che dicono i racconti il pilota si mette a fare qualche manovra un po' avventata passa diverse volte con l'aereo vicino al bus così come scherzo per svegliare quelli che ci sono all'interno e così via sta di fatto che qualunque sia la ragione per cui lo fa nell'ultimo passaggio prende male distanze l'ala del piccolo aereo da turismo prende in pieno il bus e l'aereo si distrugge contro la casa andando in fiamme e uccide sul colpo l'autista la parrucchiera e Randy Rhodes che aveva appena 25 anni difficile ovviamente tirare le somme di una carriera quando finisce a 25 anni e 3 mesi con Randy Rhodes lo facciamo facciamo un'eccezione perché era un grandissimo talento che ha dimostrato quello che valeva e che sicuramente sarebbe stato avviato a una carriera fulgida e di grandi di grandi successi forse avrebbe mollato Ozzy Osbourne si sarebbe rimesso a studiare e questa cosa sicuramente avrebbe solamente accresciuto la sua competenza e la sua autorevolezza nel settore purtroppo invece il destino non gliel'ha permesso prima di concludere due cose vorrei ricordare di Randy Rhodes innanzitutto come ho detto il fatto che abbia portato la musica classica nel heavy metal prima dell'ondata di Neoclassici che inizierà solo un paio di anni dopo con Malmsteen e secondariamente il fatto che la cosa che più mi piace del modo di suonare di Randy Rhodes è che era un modo di suonare molto espressivo cioè mentre la maggior parte dei chitarristi pensano solo a suonare a 200 all'ora e sacrificano spesso l'espressività nei confronti della tecnica o nei confronti dell'effettistica nei confronti come dire del fare figura del sembrare che suoni mille notti al secondo e così via Randy Rhodes che suonava veloce ma non la velocità per lui era un mezzo non era il fine e le parti che mi piacciono di più delle canzoni che ha inciso sono sempre quelle dove lui suona in maniera espressiva perché l'espressività dovrebbe essere sempre lo scopo finale di un artista che suona dovrebbe esprimere qualcosa certo a volte esprimiamo qualcosa con una solo ultra veloce a volte esprimiamo qualcosa semplicemente con due note ma suonate con sentimento e con passione caratteristiche entrambi che sicuramente non difettavano Randy Rhodes Randy Rhodes come detto è morto a 25 anni ormai più di 40 anni fa ed è incredibile quanti chitarristi ancora oggi lo mettono fra le proprie influenze lui aveva detto aveva sempre ammesso insomma che di avere una grande ammirazione per Van Halen e che tante cose le aveva come dire mutuate da Van Halen oggi tanti chitarristi mettono Randy Rhodes fra le loro influenze nonostante solo quattro album registrati due dei quali praticamente introvabili e due dei quali invece sono veramente delle pietre saldi dell'heavy metal moderno per cui ringraziamo Randy Rhodes ringraziamolo del suo passaggio breve ma molto significativo in questo mondo e noi ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti